Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo episodio di Crazy Games Oggi rinnovo Gatto Mario Ritroviamo Gatto Mario Gatto Mario Perchè ritroviamo Gatto Mario? Siamo italiani? Perchè no? Perchè non l'abbiamo finito giustamente Perchè non l'abbiamo finito solo il primo livello Perchè chi ha vinto? No volevo spendere le tue parole Perchè lo fanno tutti? Ma nessuno mai amanti No, vabbè Ma io certe cose io in giro non le sopporto Vabbè si hai ragione iniziamo Iniziamola Nessuno mai è andata male Ma lo faccio il primo livello Ma chi è che si è Protrato? Ragazzi però che cazzo Ma che cazzo? Non mi ha sparato via Ok mo lo so Seconda livello Seconda livello Non lo prende, non lo prende Quello sta là manculato Ma che quello è una vita No manculato guarda quello non lo posso Ma non l'ho toccato Ah beh pensavo che chissà è Prezza vita No 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 Non sai che perchè 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 Non lo so Non me l'aspettavo Madonna E' stato E' stato E' stato terrificante Ma che infame sto gioco Ma mi sa che già ho finito No 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 Ne manca una Ne manca una Ne manca una E' stato detto il paolo No si invece Io si No si so Non quanto Non mancano quanto lui No Dai che stai messo bene Dai dai che stai messo bene Portacci tu No l'altra volta che ho parlato Sì sì Una volta su 5% che parla Adosto Occhio ricordo No Però scrivete Guarda Ricordati Vero scordato Si perchè sai come su quello Dai Una terza vita Mamma mia Mi raccomando prendi La prima Senza che Ok Giusto Ma no 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 Non sei morto Tagli il checkpoint Sii Checkpoint del secondo Ma no Ma cos'è tuo fratello Maggiore Non l'ho capito Cioè se pure hai fionato No Ehi Ma quanto ti restava del caderno Ma hai visto Last vita for him Aspetta Corri Ma prima questo Poi questo No non mi si muore Non mi si muore Vai Vai dritto Piotta Non devi piotta così tardi Cioè piotta nel senso Però Freno Mi vedi Davvero Un modo lo trovi Corri Corri Ok Vai 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 Prendila Che mi fa quella Non lo so Prendila Ti ammazzo Che bello Non è bello Ma infatti non è bello per nulla Per nulla Per nulla Per nulla Ecco Adesso Vedi su Terza vita Sei stato fregato Tanto Brutalmente Per Sto pensando Vedi Questa 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 Che è la terza vita Vedi Vedi su Ecco Aspetta Aspetta Date Date Che forse discende No Fa sempre quel giro Forse Fa sempre quel giro Eccolo L'ho ucciso Via Via Nooo Non ce ne posso credere Aspettare Sapere che fai cose di fretta Ma mi fai su ultima E poi andiamo tutti a casa Non è vero Magari cazzo Già Io sono già tutti a cazzo Vedimi lo metto qua Si Aspetta Attendi Fatevi con pazienza No no Fatevi vedere Perché sennò quella non torna niente Ok Uno Due Quante volte vedevi via? Eh forse tre A quanto pare No 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 E non falla andare via Te li metti qui Vi tornava poi Aiuto Nooo Bene No infatti Non ce la vuoi fare Cioè Devi aspettare che Pare che carina che è Uno Ho preso No No Sì Di qua Su un'uomo mi sta fatto Vintorno a qua Sei data Ma bene C'è stato Gli altri punti interiore Il favore Eh Che cosa vedi No Ma non è una cosa C'era Devevo essere Un'occo grande Attenzione Incre Aspetta Aspetta Quello tanto ti ammazzano Non ti ammazzano No non tutti Questi qui forse Intorno Per te È per un mondo È per un mondo È per un mondo Non ci arrivere mai La Ah Cazzo Eh no Per forza Lo devo fare Camminare normale No Eh no No Se lo prende secondo me muore Secondo me Sì Eh vedi Però diventa tutto Però posso Spaccare tutto magari No non c'è il tempo No non c'è il tempo Da paura Da paura Da paura Per paura Per paura Per paura Per paura Per paura Tenevi occhio al mio per favore Madonna santa Queste cose a me mi fanno Prendere questi ragazzi Mamma mia Queste gonne Questi ragazzi Quindi che devo fare Eh no no Per prima cosa Spacca tutto Dici Spacca tutto fra Spacco tutto Spacca tutto fra Ma andiamo così No 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 Prendi stettura Un mix No No Brutto Comunque regà Non ti fa scelta Non ti fa scelta No Ora per chi ritorna indietro Eh troppo lento Eh vedi Lo prende quando lui sta qua Sì Quindi Sono culato Eh ma questa Vabbè Quindi quando lui sta all'inizio Si Quando sta all'inizio Si Ora 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 No No Così lo riprende No Ritorna indietro C'ha ragione C'ha ragione Si 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 Lo vedi Si 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 Andate bene proprio Bello Ma scende giù Si scende giù E poi un calmo Salto Perfetto Perfetto Non lo prendi Non lo prendi Non lo prendi Beh Ah bene Ah bene Ok Un po' di lava Un po' di ballare Non lo tovo via Non lo tovo via Agario Agario Vabbè Vabbè Siamo rifatto Questa non lo tovo via Ah però è screscendo Aspetta Aspetto Dai Dai cazzo Questi devi tocca Per forza Nooo Questi sono più veloci Sono più veloci Ecco perché Cazzo No Vabbè Li toccano a me Io sono arrivato a sto checkpoint e io Continuo Eh sì Ti vabbè Ti vabbè Abbiamo fatto un giro Vabbè Aspetta Va Abbassa Quello Vai 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 Facciamo un altro giro Amadio 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 Troppo presto Sì Aspetta F**k this shit mate F**k this shit mate F**k this shit mate Ok Ricordate l'ora è quello Non piallo Non piallo Non piallo Non piallo So che ti piace piallo Però non piallo C'è una battuta che mi stesse a se ne me la posso fare Eh no Certo che te però sei veramente un mentegatto Sì È proprio un mentegatto È proprio il cazzo di diclo Mi sempre piatta qualcosa Se non sei contento Aspetta che se ne va Adesso salta Dove salta prima fra Si fa come il lessio eh Mamma mia Ok Poi ti devi buttare giù a questo Aspetta E poi Bravo le Lo sapevo Lo sapevo Bravo Bravo Occhio Qua c'è sicuramente qualcosa Ho molte parti qualcosa È troppo calmo Salta Salta alto Salta alto Salta alto Sì Sempre Sempre Visto Bravo 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 Non bisogna mai parlare Oddio odio odio di recupera No no Ok Che secondo livello Io so che da quel checkpoint Sì Ok ragazzi Ho finito il livello Bravo Bravo Prendiamoci tutti i veriti Esatto Perché che ha fatto tutto il livello Eh sì Ha fatto scoprire così Ma lasciata ha fatto Però che ha fatto Cioè Guardate le immagini del terzo livello Tutte queste le non mi piacciono Mi scopriamo nel prossimo episodio Perché questo è tutto È un'altra storia Va bene Quindi Ragazzi